Dal momento che poi ovviamente si immaginava che sarebbe stato molto difficile per loro dire addio a questo tipo di mestiere, ma contemporaneamente non essere magari inseguite dai vari, però la cosa bella è che in realtà invece questa targa è stata messa perché ogni 3 novembre dovrebbero illuminare la torre, cosa che però nessuno si ricorda mai di controllare perché il grande stato di Toscana quando non c'era ancora l'Italia è un'unica vita, quindi stiamo parlando. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti